I carabinieri di Ripa Limosani hanno denunciato un esperto cybercriminale seriale nella cui rete erano cadute decine di vittime, neguai un 33enne campano. Era riuscito a rubare l'identità ad un noto perito assicurativo per poi depredare ingenti somme di denaro a numerose e ignare vittime in tutta Italia prima di essere scoperto e deferito dai carabinieri della stazione di Ripa Limosani. Le indagini sono partite dopo la denuncia del perito assicurativo, formalizzata nell'agosto del 2019. A nome della vittima risultavano esistenti tre carte prepagate ed un conto corrente attivati in vari uffici postali delle province di Napoli e Benevento, utilizzando copie di documenti di identità falsamente riprodotti con i dati personali dello stesso, ma usando la foto di altre persone. Con i medesimi fasulli documenti, attraverso annunci online, venivano perpetrate svariate truffe in tutta Italia, in danno di altrettante vittime indotte con inganno ed effettuare bonifici sul conto corrente in uso al malfattore, ma intestato al perito assicurativo. I carabinieri però sono riusciti ad identificare il responsabile e a denunciarlo per accesso abusivo ad un sistema informatico, sostituzione di persona e truffa.